Sono Mauro Santinato, mi occupo di consulenza alberghiera da oltre 35 anni. Sono l'amministratore della società Teamwork, società specializzata in servizi di consulenza al mondo degli alberghi. In questo videocorso voglio darvi alcuni consigli per sviluppare la vostra capacità, la capacità di vendita di ciascuno di voi che lavora all'interno di un albergo. Riuscire a aver chiaro che lo scopo principale di chi lavora all'interno di un albergo è quello di tendere più servizi ai nostri potenziali clienti è importantissimo per garantire una migliore performance al proprio albergo. Pensate che dal 1990 ad oggi nel mondo il numero dei posti letto sono triplicati. Ogni giorno aprono nuovi alberghi in tante nuove destinazioni turistiche che fino a 10, 15, 20 anni fa non esistevano nemmeno. Ci troviamo in un mercato oggi molto più competitivo rispetto al passato, un mercato più difficile da conquistare, un mercato più difficile anche da fidelizzare. Dove se pensate solo in Italia ci sono oltre 34 mila esercizi alberghieri per un totale di un milione centomila camere. A queste camere vanno aggiunte un altro milione di camere di extra alberghiero e tutta un'offerta di nuova ricettività, oggi nemmeno difficile da quantificare, che rende il nostro settore un settore molto molto più competitivo. Nel mondo ci sono più di 2 milioni di esercizi alberghieri per un totale di oltre 60 milioni di camere. Tutto questo rende il nostro lavoro più difficile, più competitivo ed è necessario sviluppare e migliorare le nostre performance. Parleremo in questo videocorso di come possiamo migliorare le vendite all'interno del nostro albergo e di come tutti i collaboratori possono contribuire a migliorare la performance del proprio albergo.